Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fare attenzione per nebbia a banchi, segnalata sul tratto appenninico tra Rioveggio e Pian del Voglio. Sulla FIPILI in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Ginestra e Lastra Assigna. Fino alle 17 chiuso per lavori, in entrata e uscita in direzione mare lo svincolo di Ginestra-Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e lo svincolo di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Bettolle-Perugia, chiuso in entrambe le direzioni, lo svincolo di Foiano della Chiana in direzione Bettolle. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso, lo svincolo di Follonica-Est in entrata e uscita in direzione Livorno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!